L'apertura degli eventi internazionali di Pesaro, capitale italiana della cultura 2024, viene affidata a Music for Freedom, orchestra Olympia meets Afghan Youth Orchestra. Si tratta del primo concerto italiano dell'orchestra giovanile dell'Afghanistan che incontra l'Olimpia di Pesaro, un concerto in programma domani, martedì 9 gennaio alle 21, al Teatro Rossini. A 24 ore dall'evento, il comune di Pesaro ha accolto questa mattina la giovane orchestra diretta da Tiago Moreira da Silva e Ahmad Sarmast, fondatore e direttore di Afghanistan National Institute of Music. Sarà un concerto che finalmente vedrà realizzarsi il progetto di gemellaggio che abbiamo iniziato nel lontano 2019 e che poi per il Covid e poi per l'arrivo dei talebani e per altri impedimenti ci ha fatto arrivare ad oggi. Il concerto vedrà un programma che è incentrato sulla musica tradizionale afghana e in generale del Medio Oriente. Per cui ci sarà un'apertura in cui potremo ascoltare pochi ragazzi e eseguire su degli strumenti tradizionali afghani delle musiche originarie. Dopodiché si andrà con l'orchestra al completo e ci saranno due tributi alla musica occidentale, quindi con Brahms e Dvorjak. Dopodiché continuiamo ad ascoltare musica tradizionale ma per orchestra sinfonica. Il concerto è unico in Italia e l'ensemble è la prima volta che è in Italia e in generale dopo essere stato a Ginevra, all'ONU, possiamo dire che ci pregiamo della gioia di averli qui come primo teatro italiano. Questo è il primo concerto italiano dopo aver suonato all'ONU e a Ginevra, quindi siamo veramente felici di poter accogliere una parte della formazione dell'orchestra giovanile afghana assieme all'orchestra femminile, in questo caso l'Olimpia di Pesaro. Sarà una bellissima serata al Teatro Rossini che appunto segnerà non solo l'importanza e il valore internazionale della musica rispetto alla pace, rispetto soprattutto alla democrazia, ma anche un'occasione artistica di altissimo livello con i giovanissimi interpreti, a partire anche dal giovane direttore di grande richiamo e ovviamente anche l'onore di avere con noi Ahmed Sarmast, che è una sorta di Nobel della musica se esistesse, che è stato il protagonista negli anni di questa esperienza così significativa che si è tenuta in Afghanistan e che ora prosegue in Europa. Ci abbiamo tenuto molto a rendere noto quello che stava succedendo anche all'interno della rete scolastica pesarese, perché i ragazzi che suoneranno dall'Afghan Youth Orchestra sono ragazzi dai 14 ai 20 anni, quindi abbiamo voluto far sapere ai ragazzi dei licei quello che stava succedendo e avremo un nutrito numero di studenti del liceo Mamiani che verranno accompagnati da qualche docente e questo ci fa veramente piacere perché la musica arriva anche ai ragazzi più giovani.